Ciao a tutti amici della Riete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Con il video di oggi andremo a vedere i movimenti energetici lavorativi e per quello che riguarda l'economia per la prima parte del 2023. Questa lettura è un approfondimento della lettura generale che ho già pubblicato, questa è la terza e ultima lettura di approfondimento, trovate come sempre tutto nelle playlist. Ho ripreso comunque le energie della lettura precedente, quindi come carta generale abbiamo la carta della forza e la carta del carro, dopodiché abbiamo nuovamente la carta del carro, il mago al contrario, un otto di spade al contrario, un dieci di bastoni al contrario, un sette di pentacoli, poi ho riuscito anche un re di coppe e io l'ho tenuto. Allora, diciamo che l'energia generale con questo carro e questo anche dieci di bastoni al contrario, sento che riguarda qualche tipo di spostamento, qualche tipo di movimento, anche la forza parla normalmente di una scelta effettuata con successo, effettuata nel modo giusto e il carro normalmente parla di un movimento, il più delle volte fisico, ma potrebbe anche essere semplicemente un movimento di tipo magari mentale, quindi muoversi da un'idea all'altra. Per molte persone sento che è collegato con la zona di residenza, quindi spostare la residenza, magari proprio dovuto a un cambio lavorativo che si sta cercando di mettere in atto e per qualcun altro in realtà parla di movimento, di quello che sono gli investimenti, di quello che sono, diciamo, di quello che è il denaro già in vostro possesso, è come se ci fosse un movimento di denaro. Per qualcuno si tratta di aprire un conto con le correnti all'estero, piuttosto che muovere dei soldi all'estero. Abbiamo questo mago al contrario, ripeto, e poi c'è anche un 8 di spade e un 10 di bastoni al contrario. Per certi versi sento che qualcuno avrà difficoltà a capire come manifestare la propria realtà lavorativa, la propria sicurezza economica, questo tipo di movimento di cui ci parla il carro, questo tipo di… perché quando c'è il 10 di bastoni si parla di lasciarsi indietro delle responsabilità e qui c'è bisogno probabilmente di prendersi un tempo, di prendersi un periodo. Non dico che sia un togliersi di dosso per completamente le responsabilità, ma perlomeno metterle in stand by un periodo. ecco, sento che qualcuno probabilmente questo viaggio potrebbe anche fare riferimento a un periodo di vacanza che magari vi concederete nel prossimo 2023, insomma, diciamo nel primo semestre del 2023. Ragazzi, vi sento un po' troppo, se vogliamo, negativi per quello che riguarda la vostra situazione economica, probabilmente proprio, ripeto, per questo movimento che si dovrà fare o che state cercando di fare, visto che il mago al contrario non è ancora un qualche cosa già in azione, è più il tentativo, secondo me. Quando c'è il mago al contrario, adesso lo andiamo a vedere con i mini terocchi, però molte volte parla di o una manipolazione o un voler dare una direzione in un modo un po' troppo forzato. Probabilmente potrebbe anche essere che qui qualcuno sta tardando a vedere determinati risultati da un punto di vista lavorativo e quindi si sta cercando di spingere un pochettino. Ecco, quando succedono questo genere di cose, quando si vuole una determinata cosa, quando si sta cercando di manifestare questa cosa non arriva, è perché normalmente bisogna correggere un pochettino il tiro, bisogna magari apporre qualche modifica al tipo di progetto, magari è il luogo dove vi volete spostare o cose di questo genere, perché normalmente quando si è in linea con la nostra vocazione dell'anima, quando si è in linea con la nostra anima, i risultati arrivano in modo fluido. Nel momento in cui si iniziano a bloccare un pochettino le cose e non vanno, diciamo, nella stessa direzione in cui noi stiamo lavorando, è perché lì c'è da ricalibrare qualche cosa. Va bene, andiamo a vedere con i mini terocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io come sempre vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. Il carro è spiegato da un re di spade al contrario e da un sette di spade al contrario. Allora, qui ragazzi potrebbe far riferimento a qualche tipo di questione magari che è rimasta in sospesa o che non è stata poi così chiara, diciamo così. C'è qualche questione che viene a galla e credo che il carro sia la conseguenza del venire a conoscenza di questa cosa. Quando c'è un re di spade al contrario, si potrebbe parlare di un genitore, di un padre, di un tutore, di una figura di riferimento ma anche di una sorta di confusione mentale. E qui un po' lo vedo perché con questo mago non si sa bene da che parte andare. Adesso dipende se voi vi identificate di più con questo mago nel non so dove andare oppure sto cercando di far di tutto per raggiungere quell'obiettivo ma quell'obiettivo non arriva. Andiamo a vederlo nello specifico. Allora, abbiamo un cavaliere di bastoni, un sei di bastoni e un due di pentacoli. Probabilmente si vorrebbe raggiungere qualche tipo di risultato ma in questo momento si stanno gestendo, sostenendo diverse situazioni o idee. Quando c'è il cavaliere di bastoni innanzitutto potrebbe rappresentare una persona magari che è vicino a voi o con la quale avete intrapreso un nuovo tipo di progetto da un punto di vista lavorativo. Può essere anche semplicemente una persona che ha stima di voi, che viene verso di voi. E c'è anche la carta del sei di bastoni, quindi è la carta del riconoscimento, del successo. Però è anche vero che con il due di pentacoli ci sono degli alti e bassi a livello lavorativo, questo non ve lo posso negare. Niente di, diciamo così, di non superabile. Adesso andiamo a vedere come si sviluppano ancora le cose. Però ecco, secondo me c'è una sorta di movimento. Quando ci sono i cavalli c'è sempre un movimento. Andiamo a vedere l'otto di spade al contrario. Ecco appunto, un altro otto di spade. E il mondo al contrario. Guardate, vi sento un po' negativi, sinceramente, per quello che riguarda probabilmente l'attitudine che avrete nei confronti di questo movimento, di questo cambio, ok? Andiamo a vedere anche il 10 di bastoni. Abbiamo la carta del sole e l'asso di coppe. Allora, credo che per molte persone questo movimento sia difficile per una questione legata ai figli. se dovesse essere, per dire, un trasferimento a livello abitativo, può essere che sia difficile per voi perché bisogna sradicare i figli dalle proprie amicizie o cose di questo genere. Nel caso, per esempio, fosse un movimento da un punto di vista lavorativo, credo che il problema qui sia proprio lo spostarsi, lo spostamento. Vi dico, vi sento un po' negativi per quello che riguarda la vostra prospettiva di una futura economia rosea, ma perché avete due volte l'otto di spade, siete voi che siete negativi. In realtà io non credo che la vostra situazione sia così preoccupante, proprio anche a livello finanziario, nonostante potrebbero essere venute fuori, diciamo, delle spiacevoli sorprese, perché comunque qui c'è un sette di spade al contrario. Qualcosa comunque potrebbe venire a galla e potrebbe destabilizzarvi, però vi dico che tutto sommato, scusate, è più una vostra attitudine mentale. Quando c'è un otto di spade, si parla sempre di pensieri autoboycottanti, di sensi di colpa, di qualcuno che si sente impotente, però in realtà qui avete la carta del mondo e anche la carta del sole. Il sole parla di espansione, di protezione e parla anche di abbondanza. Quindi in realtà se dovete spostarvi, sento che questo spostamento potrebbe giovarvi. Nonostante voi non vediate quali potrebbero essere, diciamo, i risvolti positivi, ci saranno, potrebbero esserci questi risvolti positivi, o meglio, io sento che ci saranno, il punto è anche un po' buttarsi, perché qui con l'asso di coppa al contrario, ripeto, o fa riferimento a qualche tipo di figlio, qualche tipo di incontro magari anche che non si riesce a fare, però essendo più una stesa appunto di lavoro, sento che fa riferimento alla vostra capacità di espansione da un punto di vista lavorativo, grazie a questo viaggio, grazie a questo spostamento. che ripeto, per molti è fisico, per molti è un cambio di idee, è un cambio di progetto, un cambio in generale. Terminiamo poi con i sette di pentacoli, andiamo a vedere il sette di pentacoli, abbiamo il diavolo e un 9 di coppia al contrario. Qui probabilmente, ragazzi, il consiglio è quello un po' di aspettare, perché con questo diavolo c'è in realtà un condizionamento, che è quello che suppongo voi vediate, ma sento che è legato a un sogno che non si sta compiendo, perché comunque quando c'è un 9 di coppa al contrario, è un sogno che non riesce a compiersi, è come essere vicino, sentirlo, poterlo quasi assaporare, ma non arrivare mai a toccarlo. E poi c'è un re di coppe. Andiamo a vedere anche il re di coppe. Quindi secondo me c'è un'attesa dal punto di vista di una persona, è come se si stesse aspettando una comunicazione per quello che riguarda un progetto da parte di questo re, da parte di questa persona. Le carte vi consigliano un po' qui di attendere, e quando c'è un sette di pentacoli si parla di un'attesa con un'attitudine positiva. Cioè il sette di pentacoli è una persona che ha già fatto un suo lavoro, ha già seminato, e ora semplicemente dà energia a questa piccola piantina nell'attesa che faccia i frutti. Ma c'è la sicurezza che faccia i frutti. Quindi si tratta solo di aspettare del tempo. E qui è un po' come se vi dicessero di mantenere un profilo basso, di osservare, soprattutto i movimenti di questa persona, che per qualcuno potrebbe rappresentare la stessa energia del re di spade, quindi un tutore, un genitore, o comunque qualcuno che è coinvolto in questo tipo di movimento lavorativo, progetto o spostamento, ok? E qui di nuovo fa riferimento al progetto e anche alla casa, a qualche cosa che è nel profondo di voi stesso con la carta della luna. Va bene, andiamo a vedere una scansione temporale degli eventi. E anche qui vi ricordo che il tempo è fluido, quindi se per caso nella stesa viene fuori qualche cosa a febbraio, per qualcuno potrebbe essere che si avveri a febbraio, per qualcun altro magari si manifesta a marzo o aprile, e per qualcun altro, perché no, potrebbe già manifestarsi nella fine del 2022. Bene, andiamo a vedere. Per gennaio abbiamo la carta della stella, quindi direi che è una buona partenza. La stella parla sempre di sogni, di desideri, di qualche tipo di obiettivo che si sta puntando, o anche di qualche idea che potrebbe arrivare. A febbraio c'è un appeso al contrario, ragazzi, e quindi qui si sblocca qualche cosa. L'appeso, quando è al contrario, è perché dice che c'è già stato un periodo di riflessione, e quando c'è la stella, io la stella la sento molto come una carta di raccolta dati, perché è proprio una carta di canalizzazione, una carta di ricezione, di ascolto, di attesa, no? E secondo me è quel tipo di informazioni che raccoglierete a gennaio che vi darà la possibilità di, diciamo, girare questo mago al contrario, di fare un'azione, si inizia a sbloccare la situazione. Andiamo poi avanti con l'eremita, la carta della morte, il 6 di spade, ancora una carta per giugno, perché c'è la grazia, devo dire 4 di spade e il giudizio. Devo dire che avete un sacco di arcani maggiori, quindi sarà un periodo importante con movimenti comunque profondi. L'eremita a marzo mi dice che dopo questo passaggio di appeso, quindi dopo questo sblocco che vivrete a febbraio, ci potrebbe essere un periodo di ricerca interiore. Per qualcuno si tratta proprio di capire qual è il lavoro della propria vita, capire che cosa vi rende felice, capire secondo che valori morali vi sentite di lavorare, perché vi ricordo che c'è la carta della forza. Quindi qui si parla di trovare anche le proprie virtù proprio. E poi abbiamo la morte, quindi qui si fa tutto quello che è un processo, se vogliamo, di comprensione, di raccolta dati, di studio, per poi tagliare ad aprile con quello che non serve. Il 6 di spade anche, è una carta che parla di tagliare con qualche cosa che riguarda il passato, normalmente sono i problemi legati alla famiglia, quindi se qui per caso avete un'azienda familiare si potrebbe trattare del distacco dall'azienda familiare, ok? Sta di fatto che poi terminiamo con un 4 di spade e la carta del giudizio. Qui c'è una sorta di concentrazione di energie verso voi stessi. Il 4 di spade è una carta di eremitaggio in un certo senso, è una carta che impone, se vogliamo, un periodo di ritiro per ricaricare le pile, sia da un punto di vista fisico, sia da un punto di vista morale che da un punto di vista spirituale. E in effetti questo periodo servirà a prendere consapevolezza. La carta del giudizio, la carta del risveglio, è la carta di qualcuno che ha un'idea geniale da sviluppare, è qualcuno che capisce perché questo progetto, questa collaborazione non ha funzionato fino ad adesso. È un po' la chiave di volta. Sento che nella prima parte del 2023 ci sarà una sorta di restyling, è un po' come se qualcuno si chiedesse ma questo è il lavoro che voglio fare, questo è il lavoro per me, è quello che desidero. Si andrà un po' a fondo per quello che riguarda la propria vocazione, mi viene da dire. E lo sento proprio come una questione spirituale perché vi dico, avete tanti arcani maggiori. Andiamo a spiegare anche queste carte, amici della rieta. Andiamo a vedere nello specifico che cos'altro vi posso dire. Allora, ok, prima carta che si gira per la stella è un 2 di spade e abbiamo un cavaliere di pentacoli al contrario. Allora, qui si potrebbe trattare di una scelta che voi dovete prendere inerente appunto a un vostro obiettivo. Diciamo che avendo il cavaliere di pentacoli al contrario qui l'energia è un po' a rilento ma in effetti c'è anche una carta dell'appeso quindi posso capire che si arrivi da questa energia un po' lenta, un po' prudente direi. L'appeso a febbraio si aprono delle strade, si sblocca qualche cosa. Credo che, guardate, sei di spade un'altra volta, nel caso stiate cercando lavoro ragazzi potrebbe essere che a febbraio qualcuno potrebbe trovare lavoro o perlomeno si inizia a intravedere una chiacchiera magari con qualcuno potrebbe essere questo fante di spade una persona che vi viene in aiuto proprio per cercare lavoro o potrebbe anche essere nel caso abbiate un'azienda potrebbe essere un dipendente il fante di spade potrebbe essere un dipendente con il o la quale sia meglio mettere un attimino le cose in chiaro andiamo a vedere l'eremita un'altra volta l'appeso è un quadro di bastoni allora qui secondo me molte persone si faranno delle domande sul fatto di collaborare o meno con qualcuno sento che questa fase dell'eremita arriverà probabilmente l'appeso sbloccherà un certo tipo di programma un certo tipo di progetto qualche cosa dove c'è anche questo fante di spade con questo fante di bastoni coinvolto vi ricordo che anche qui c'era una figura c'era un re di pentacoli potrebbe essere qualcuno che magari vi ha promesso dell'aiuto e poi non arriva o cose di questo genere sta di fatto che a marzo vi prendete un attimo di riflessione qui c'è decisamente con questo quattro di bastoni al contrario qualcuno che non si vuole legare che non vuole fare contratti c'è qualcuno che non si sente in armonia e quindi si prende un periodo di eremita barra appeso proprio per fare le valutazioni che servono andiamo a vedere la carta della morte vediamo che cosa lasciate indietro 5 di coppe 4 di pentacoli e 4 di spade molte persone lasceranno indietro l'attitudine mentale dell'otto di spade io sento qui e questo succederà verso aprile è come se ci fosse una sorta di rigenerazione ok giustamente la morte parla di rinascita si lasciano indietro tutti quei pensieri boicottanti di cui parla qui l'otto di spade il senso di colpa il senso di non completezza il senso di perdita il senso di attaccamento e di nuovo abbiamo il 4 di spade che è un'altra carta che c'era già sì c'era già qui ce l'avete poi a giugno probabilmente si inizia a sentire proprio forte questa esigenza di prendersi un tempo andiamo a vedere il 6 di spade perché qui abbiamo il viaggio quindi si parla di maggio quindi potrebbe essere che questo spostamento se per voi risuonasse come uno spostamento fisico potrebbe essere verso maggio è spiegato da un 3 di pentacoli e da una regina di pentacoli al contrario sì molte persone cambieranno casa o cambieranno tipo di progetto tipo di lavoro c'è qualche cosa legata alla residenza e allo spostamento per conseguire un determinato lavoro per riuscire a creare una collaborazione datemi un'altra carta per la regina di pentacoli abbiamo un 3 di coppe perché il 6 di spade ragazzi parla di qualcuno che ha bisogno di staccarsi da delle credenze vecchie obsolete che ormai non servono più e abbiamo una regina di denari che fa riferimento molte volte a una madre a un tutore a un educatore o un'educatrice visto che comunque è una regina guardate potrebbe anche essere che mi parlano di commercialista quindi potrebbe anche essere che abbiate bisogno di magari cambiare figura di riferimento per quello che riguarda la contabilità perché quella che avete non vi dà molta sicurezza non vi dà molta stabilità nel senso che quando avete un'idea per fare un progetto nuovo vi tappa un po' le ali vi scoraggia nell'intraprendere qualsiasi nuova attività non so se e per quante persone risuoni fatemelo sapere nei commenti ma mi è arrivato questo messaggio andiamo a vedere il 4 di spade 8 di pentacoli la carta del lavoro e la carta della temperanza che ha la stessa energia del 7 di pentacoli che parla di pazienza ragazzi io lo sento un buon periodo fondamentalmente siete voi che siete un po' troppo preoccupati per delle questioni secondo me economiche per qualcuno perché manca un reale contratto manca una reale collaborazione con una persona e quindi si sta pensando se continuare stare lì o se muoversi da lì vale la stessa cosa se siete in una in un'azienda se lavorate come dipendenti quindi sento che per certi versi anche lì non ci si sente completamente soddisfatti sia da un punto di vista economico sia proprio da un punto di vista di realtà personale c'è bisogno di esprimere se stessi ok però comunque soprattutto se siete senza lavoro vi dico all'inizio fine fine inverno inizio primavera potrebbe esserci un inizio qualche cosa che si smuove ma diciamo che resta ancora per qualcuno nell'aria e per qualcuno un contratto a termine cioè nel senso per qualcuno è un qualche cosa di cui si parla per iniziare magari in estate però ci si parla già verso febbraio marzo per qualcun altro invece potrebbe essere un contratto a termine però vedo che le cose diventano molto più definitive verso maggio giugno quindi c'è questa possibilità di concretizzare un eventuale lavoro in modo un po' più concreto verso giugno anche se è un progetto sento che c'è questa sorta di partenza guardate secondo me il prima e il dopo lo definisce la morte qui siamo aprile quindi qualsiasi cambio stiate cercando di valutare con il carro e la forza secondo me inizia ad essere un po' più effettivo appunto verso aprile e maggio ok bene andiamo a vedere un ultimo messaggio con gli oracoli dei guerrieri di luce vediamo come concludiamo la stesa wow seme stellare alza la vibrazione per il pianeta attraverso la tua radiante luce dell'amore la luce radiante dell'amore va bene vabbè avete capito ragazzi qui sarà un cambio di professione cioè non è che qualcuno cambia ufficio qui è proprio che qualcuno cambia tipo di è un cambio profondo è un cambio di direzione è qualcuno che si chiede ma io veramente voglio fare ipotesi il o la dipendente per tutta la vita o so che posso fare qualche cosa per me per aiutare gli altri i semi stellari sono qui per aiutare nel risveglio globale della terra ok quindi se vi è capitata questa carta è perché molte persone che stanno vedendo questo video sono semi stellari e molte persone lo sono ma non ne sanno niente non ne sono consapevoli un semi stellare semplicemente non è che necessariamente dobbiate aver fatto percorsi spirituali o essere maestri no in realtà chiunque metta le proprie doti informazioni conoscenze e capacità al servizio degli altri quindi per far star meglio gli altri in realtà quello è già un lavoro che state facendo come semi stellari perché state semplicemente aiutando gli altri a star meglio state aiutando gli altri ad alzare le loro vibrazioni che può anche essere se per esempio siete i camerieri in un bar quando vi arriva il cliente il mattino con il broncio servirgli il caffè e fargli una battuta in modo da allegrargli un pochino la giornata anche quello io lo vedo come un gesto d'amore un gesto sempre atto a far star meglio gli altri bene scrivetemi nei commenti come vi risuona che sono proprio curiosa amici della riete questo è quello che avevo per voi per la prima parte del 2023 direi che è un periodo molto interessante si prospetta pieno di cambi e di prese di consapevolezza mi verrebbe da dire vi ricordo che alla fine del periodo comunque c'è il giudizio io vi auguro comunque uno splendido inizio 2023 spero che possiate raggiungere tutti i vostri obiettivi se comunque il video vi è piaciuto potete mettere like per supportare il canale potete iscrivervi condividere commentare lasciare una donazione guardare il video fino in fondo o non saltare la pubblicità ogni tipo di supporto davvero per me è importante davvero io vi mando un forte abbraccio vi auguro il meglio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao